Ciao Gilberto, buongiorno e benvenuto ai nostri caffè del mattino. Io volevo proporti un tema che so che fa parte delle cose a cui tieni molto, che è il tema dell'incontro del paziente, ma è un incontro specifico. Io vorrei che tu ci parlassi un pochettino di come si deve fare bene una prima visita in ambulatorio per metterci in condizione di aiutare al meglio la persona che si presenta da noi per chiedere aiuto. Io aggiungo a volte di sua volontà, a volte spinta dai parenti, ma comunque è sempre un primo colloquio di una persona che non conosciamo e che viene da noi per essere aiutata. Ne parliamo un po'? Certo. Allora intanto mi piace dire che noi dovremmo considerare ogni nostro incontro il primo e l'ultimo. Noi dovremmo vivere ogni nostro incontro con l'intensità con cui si vive un primo incontro e un ultimo. Perché dico questo? Perché anche un paziente che conosciamo da tempo può rivelarci qualcosa come se non l'avessimo mai visto, se noi ci mettiamo in questa disposizione. E al tempo stesso, se ogni volta sentiamo che ogni incontro può essere l'ultimo, questo lo dico come psichiatra che ha avuto i suoi suicidi, per esempio, che mi hanno veramente lacerato e strappato e quindi sono riandato sempre all'ultimo incontro con il paziente e mi sono detto se avessi saputo che era l'ultimo incontro, gli avrei detto questo, avrei fatto questo. Quindi partirei da questo. Il secondo punto è che secondo me, differentemente dal medico che si incentra sul sintomo, noi dovremmo molto amplificare quella che Antonio Alberto Semi, un testo che io ho adorato, che si chiamava La tecnica del colloquio, un testo in due volumi di anni fa, chiamava La fase libera del colloquio. Ecco, secondo me i primi minuti del colloquio dovrebbero non riguardare assolutamente il fatto che uno è uno psichiatra e l'altro è un paziente, dovrebbero essere volti a mettere a proprio agio la persona e a consentire di esprimersi liberamente su cose che la concernono, il suo lavoro, l'attività, il tempo, proprio come se ci si incontrasse su un treno, una volta si parlava sui treni o ci si incontrasse per strada. Questo può aiutare molto. L'altro aspetto è che all'atto che il paziente entra nella porta, dalla porta e fa quei metri fino a sedersi di fronte a noi, più o meno accompagnato da chi, eccetera, di fatto dentro di noi noi già abbiamo preso una serie di parametri. Abbiamo preso una serie di parametri dal modo in cui cammina, dall'odore, da come guarda, da come sorride, da come è vestito, da come si muove, da come è agitato, da come è tranquillo. Già abbiamo preso una serie di parametri e che rientrano in quella cosiddetta prima impressione che se è vero che va messa da parte, perché può essere errata, è anche vero che non va buttata, perché a volte è proprio questa impressione epidermica o atmosferica a sostanziare la nostra diagnosi. L'altro punto è che, è bello quello che dicevi tu, che questo primo incontro non deve necessariamente finire con una prescrizione o con una diagnosi. Un primo incontro può anche rimanere interlocutorio e rimandare ad un secondo incontro e rimandare ad un terzo incontro. È come se il vero obiettivo del primo incontro non dovesse essere, come dire, il paziente o la diagnosi o la terapia. Leggevo su un vecchio testo di psichiatria di Reda, se non sbaglio, diceva, l'avvertenza che dava è, mi raccomando, quando vedete il paziente non pensate ossessivamente a cosa e cosa gli do. Perché queste sono due domande che finiscono per polarizzare l'attenzione dello psichiatra. È come se l'obiettivo del primo incontro fosse la relazione, come se noi dovessimo puntare ad ancorare ad una relazione, ad un aggancio, ad un ingaggio, noi e il paziente. Poi dopo tutto viene di conseguenza. Paradossalmente il paziente accetta dopo, tra virgolette, qualunque terapia o qualunque indicazione, ma se si è formata una relazione che sembra uno simolo, perché com'è possibile che un incontro diventi già una relazione? Un incontro è un elemento di una relazione che si forma nel tempo. Invece se l'incontro è autentico, in un primo incontro, che è anche il sapore dell'ultimo incontro, già si getta a un ancora relazionale. Se lo psichiatra riesce a fare questo, io credo che abbia fatto un buon lavoro. Sì, io credo che il vero problema sia quello di riconoscere che esiste uno strato roccioso in ognuno di noi, che soltanto superato il quale probabilmente entriamo in contatto con la nostra natura più vera e che probabilmente è quella che occorre per poter fare una corretta diagnosi e probabilmente anche una corretta prescrizione. Ecco, però è anche vero che esistono delle aspettative, ovvero, come tante volte si dice, sia in due, cioè il terapeuta, lo psichiatra e il paziente con le sue aspettative. Come si fa a non deludere le aspettative del paziente della cura rimandandola? Ovvero, non pensi che il vero tema sia l'accoglienza, cioè se il paziente si sente accolto accetta anche il rimando della terapia e se non viene accolto invece dice, ma questo qua non mi ha dato la pastiglia che volevo? Sono totalmente d'accordo con te, tu lo chiami accoglienza, io l'avevo chiamata lo scampolo di relazione, ma è proprio quello che volevo dire, è esattamente quello. Io ti dico che col passare degli anni, ormai parlo da psichiatra maturo se non anziano, ho imparato a essere sempre più libero nell'incontro e ad avere meno aspettative, a sentirmi anche meno sconfermato nel mio ruolo dagli atteggiamenti del paziente e paradossalmente scopro che questo mi dà più chance con il paziente, cioè meno mi costituisco io come soggetto supposto sapere, più considero il paziente titolare della sua esperienza, quindi più mi metto nell'atteggiamento di chi deve ascoltare, deve capire, deve imparare da chi è di fronte e più poi ho chance al momento opportuno di proporre una diagnosi, una terapia, un'indicazione. Va anche detto che in parte sono favorito dal fatto che in genere i pazienti che incontro sono pazienti che mi vengono inviati perché un primo, un secondo livello è fallito, quindi mi vengono inviati in funzione di superconsulente. Allora già mi accorgo che il paziente entra con un atteggiamento di reverenza nei confronti del professore o nei confronti dell'esperto, a lui ha la sensazione di essere stato inviato da un clinico esperto, credo che questo favorisca in linea di massima noi psichiatri più anziani rispetto ai più giovani, però va anche detto che i più giovani sono naturalmente favoriti dal fatto anche di essere semplicemente coetanei del paziente o a volte anche più giovani del paziente. Io sono partito che i pazienti erano tutti i miei fratelli, oggi mi ritrovo ad essere il padre della maggior parte dei miei pazienti, questo cambia le cose. Però questo mi ha fatto capire quanto lasciarsi andare, come dici tu, non aggrapparsi al proprio stato roccioso, uscire un attimo fuori dalla maschera, dal sistema, dall'autorità e far sentire a quel paziente che lo si sta incontrando da uomo a uomo, ecco questo paga molto poi quando si ritorna nelle vesti di medico e di paziente. Sì, c'è da dire, Gilberto, che c'è una considerazione che mi è venuta in mente ascoltandoti, che è un punto molto doloroso, credo, della psichiatria in Italia e che è cioè il fatto che molto spesso capita di vedere un paziente a cui praticamente non ha bisogno di una terapia farmacologica, proprio per esagerare forse, non so, perché c'è un po' di insonio, un ipnotico, giusto per aiutarlo un po' in un ritmo sono veglia migliorato, ma che è chiaramente invece, sia per età che per tipo di patologia, bisognoso un intervento di tipo psicoterapico. Io mi rendo conto che uno psichiatra di un servizio dire una cosa del genere può essere molto difficile, non perché non tanto e non solo perché il paziente preferisca a volte la pillola miracolosa, ma soprattutto perché non sa dove mandarlo. Ecco, io credo che questo varrebbe la pena. Tu, che ti occupi in maniera seria di formazione psicoterapica degli operatori della salute mentale in Italia, questo penso che sia un tema mica da poco, perché a volte, come abbiamo detto prima, non è detto che il colloquio psichiatrico debba per forza sortire ad una terapia farmacologica, ma è altanto vero che possa avere invece una indicazione ben precisa di tipo psicoterapico. Ma come facciamo se le psicoterapie, non è che non ci sono, sono sempre e solo tutte a pagamento? Questo è un grosso problema, perché abbiamo una grossa carenza di psicoterapeuti nei nostri servizi, abbiamo una carenza di psichiatri, quindi immaginiamoci di psicoterapeuti. Però va anche detto che le psicoterapie tutte presentano delle rigidità che spesso rendono ostativo l'accesso del paziente al percorso di psicoterapia e frenano anche lo psichiatra nell'invio. Cioè, voglio dire, non sono sicuro che il problema si risolverebbe infittendo di psicoterapeuti i nostri servizi, perché anche lì funzionerebbe un sistema selettivo per cui in definitiva il paziente che va in psicoterapia finisce per non essere il paziente che più ha bisogno di psicoterapia. Questo è un paradosso che ho notato molto in questi anni. Allora, con questo che cosa voglio dire? Che il servizio dovrebbe recuperare una funzione psicoterapeutica una funzione psicoterapeutica che pertiene non solo allo psicoterapeuta formato ma pertiene allo psichiatra ma ti dico che pertiene all'operatore della riabilitazione che pertiene all'infermiere. Cioè l'atteggiamento psicoterapeutico è un atteggiamento che supera il setting. Secondo me questo è un punto che è stato poco discusso perché tutta una serie di pratiche che vengono considerate selvagge non propriamente psicoterapeutiche e invece sono proprio quelle a innescare dei cambiamenti all'interno del paziente. È come se il terapeuta, la terapeuticità dovesse sprigionare proprio dalla persona, dall'incontro, dal servizio, dai vari passaggi. E poi naturalmente ci sono anche è chiaro le psicoterapie che hanno i loro setting, hanno i loro passaggi, hanno i loro obiettivi ma quelle io in salute mentale le considererei diciamo secondarie e riservate sicuramente ad una quota diciamo di pazienti diversamente strutturati ma la maggior parte dei pazienti di cui si occupa la salute mentale forse non è di quello che hanno bisogno. Come non hanno bisogno di modelli riabilitativi come dire, implementati e di alto livello di cui si è sentito parlare in tutti questi anni nei convegni perché quello è un altro aspetto che noi dovremmo riaprire cioè che senso ha una riabilitazione non contaminata di psicoterapia e di psicopatologia e lì è un grosso punto interrogativo per me, per quella riabilitazione lì va applicato lo stesso discorso che potremmo fare per la psicofarmacologia che senso ha una psicofarmacologia senza una dimensione psicoterapeutica che senso ha una riabilitazione senza una dimensione psicoterapeutica e che senso ha una psicoterapia senza una dimensione clinica e psicopatologica Sì, io sono d'accordo io credo che quello che tu hai detto si potrebbe riassumere per me in questa nel concetto di ambiente terapeutico dentro cui probabilmente molti nostri pazienti avrebbero un posto dove stare e da dove trarre diciamo un beneficio e per ambiente psicoterapeutico si intende probabilmente credo un ambiente dove ci sia un'attenzione alle dinamiche ci sia una preparazione alle dinamiche ma come dicevi tu non necessariamente per forza avere diciamo una psicoterapia istituzionalizzata ma un ambiente che diventi terapeutico perché coglie la complessità dell'essere umano che adisce al servizio molto probabilmente gestito in maniera gruppale dal gruppo terapeutico e non da un singolo terapeuta è questo quello che tu vuoi dire se non sbaglio è proprio questo questo lo si vede anche esemplificato in misura ridotta certamente nel ricovero in SPDC perché immaginiamo l'SPDC scarno sul mutuo senza diversivi dove però si alternano gruppi e squadre di infermieri diversi medici diversi dove i pasti sono regolari dove c'è una somministrazione di farmaci dove c'è un minimo di interazione tra i pazienti rispetto a un paziente che viveva chiuso in casa o un paziente che viveva paranoico fuggendo da una parte e dall'altra insomma noi non dobbiamo pensare che in quei 15 giorni o 10 giorni o una settimana di ricovero siano solo i farmaci a fare diciamo la loro azione perché prima non prendeva la terapia ora prende la terapia e si è ricompensata è quell'ambiente come dici tu che per quanto contenitivo è un ambiente dentro il quale si alternano mescolandosi umori sigarette caffè urla cura del corpo doccia ripulitura cambio del letto insomma e tutto questo ha una valenza terapeutica una valenza psicoterapeutica che non va sottovalutata o perché non c'è un setting strutturato non considerata tale io credo che questa sia la psicoterapia che pertiene alla psichiatria e che è lo specifico dello psichiatra non ridotto alla sua funzione di neurologo comportamentista questo è il concetto sì concludendo mi viene in mente che la prima volta che conobi da giovanissimo psichiatra Eugenio Borgna lo andai a trovare nel suo SPDC di Novara dove le porte erano aperte io che non ero abituato onestamente alle porte aperte gli dissi ma professore come si fa? e lui mi guardò con i suoi occhi azzurri e mi disse e concludiamo questo incontro con questa parola semplice si fa e credo che sia profondamente vero non trovi? sì sì grazie Gilberto alla prossima alla prossima ciao grazie a tutti